Avete presente nei fumetti di supereroi dove dicono questo numero è un numero uno ideale per iniziare a leggere la nostra testata? Ebbene ragazzi, questo è un numero ideale per iniziare a leggere Dilan Dog e ora vi spiego perché dopo la sigla. Bentornati su Nomamamazzo e bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Dilan Dog. Si comincia alla grandissima con la nuova curatela di Barbara Baraldi. Barbara Baraldi è già la curatela di Dilan Dog da qualche numero, però sapete, è già successo anche in altre occasioni, c'è qualche numero di assestamento e poi si passa all'accelerata iniziale. Questa è l'accelerata iniziale, quello che dà il via a tutto e quale occasione migliore di cominciare il tutto se non Lucca Comics and Games 2023, dove tra l'altro Barbara Baraldi era persino ospite e avrebbe anche firmato questo numero di cui ho tra le mani la copia in edizione Variant appunto disponibile a Lucca Comics, presumo anche nei Bonelli Store. Però appunto ringrazio il mio amico Nicola che me l'ha portata. Io non sono stato a Lucca Comics quest'anno. Lo avete letto nel post della community, sulla mia pagina Instagram. Quest'anno non ce l'ho fatta a essere con voi a Lucca Comics. Questo numero è fantastico sotto tanti punti di vista e io ho tanta paura di dimenticarmene alcuni. Innanzitutto, la copia che ho tra le mani, che è l'edizione Variant, ha una copertina di tutto rispetto che però altro non è che il nuovo frontespizio che guiderà, diciamo, la curatela di Barbara Baraldi e vi spiego un po' cosa posso aver intuito da quello che vuole fare con Dylan Dogg. Mentre la copertina classica, la copertina che trovate in edicola, ve la metto nella miniatura di questo video ed è altrettanto bella e sono entrambe ad opera dei Cestaro Brothers che continuano ad essere i copertinisti regolari di questa serie, della serie regolare appunto di Dylan Dogg. Mentre questo numero Variant, oltre al fumetto, ha anche una lunga intervista, una lunga chiacchierata con Barbara Baraldi. Eccola qui, sono queste pagine qui. Ci sono 98 classiche pagine di fumetto e poi una bellissima intervista che ci fa un pochino entrare un pochino nella testa della Barbara Baraldi scrittrice e della Barbara Baraldi curatrice. Quando si è detto che Dylan Dogg doveva tornare al classico io avevo un po' paura. Io adoro i vecchi Dylan Dogg, ma non sono un grande fan dei vecchi Dylan Dogg oggi. Quindi temevo con il ritorno al classico che si lasciassero perdere delle storie avveniristiche, delle storie coraggiose, delle storie che toccano l'attualità. E invece devo dire che Barbara Baraldi con questo numero mi ha totalmente smentito e ora ho capito perfettamente cosa vuole fare. Vuole portare tutto ciò che è classico, tutto ciò che è calta di Dylan Dogg, tutto ciò che è rappresentato in questa foto di famiglia lo vuole portare nelle nuove storie, li vuole rispolverare, vuole rispolverare questi personaggi classici e far dare a loro nuova vita in nuove storie per i nuovi lettori, senza fare dei sequel, senza fare dei reboot, ma facendo solo degli omaggi. In questo caso, in questo primo numero, c'è un omaggio a Attraverso Lo Specchio. E io penso che vedremo in futuro il ritorno di tanti personaggi, alcuni li ha detti proprio lei stessa, tornerà a Cagliostro, per quello che dico che alla fine non è un vero e proprio ritorno al classico, ma è un dare la continuity che volevo che avesse Dylan Dogg anche nella curatela recchioniana. Qua Barbara Baraldi ha capito benissimo quali sono i punti forti che accontenterebbero i vecchi lettori e che potrebbero far affezionare i nuovi lettori, dando un certo senso di continuity in un numero bonelli che continuity non ne ha tantissima. Usare i personaggi ricorrenti di Dylan Dogg e portarli nel futuro della testata sarà una mossa sicuramente vincente e io sono felicissimo. Rivedremo anche Golconda tra qualche tempo, quindi sono molto molto curioso. È già tornata la morte, che qui è disegnata come nel famoso film di cui adesso mi sfugge il nome. Mi viene in mente partita Scacchi con la morte, ma quello è un numero di Dylan Dogg. Sicuramente rivedremo Morgana. Verranno citati probabilmente Johnny Freak e altri personaggi. Johnny Freak in realtà è stato già citato da Roberto Recchioni negli scorsi numeri. Questa storia all'altro lato dello specchio non può che farci pensare ad altri numeri di Dylan Dogg che vengono omaggiati. Non è assolutamente necessario averli letti, però se li avete letti potreste sentirvi in una zona di comfort leggendo l'altro lato dello specchio. Vi elenco di seguito i numeri che mi hanno ricordato questo numero. Innanzitutto, l'altro lato... scusate, attraverso lo specchio di Tiziano Sclavi che io ho in questa versione con tutti i numeri sclaviani ricolorata. Non ricordo se fosse stato il numero 6 della collana regolare scrivetemelo qua sotto nei commenti. Già che lo fate magari iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace o non mi piace a questo video a tutti gli altri che vi pregheri condividete il video con tutte le persone che conoscete e appunto commentate qui sotto così perché mi stavo dimenticando di dirvelo. Dopo, attraverso lo specchio hanno fatto una sorta di sequel che era riflessi di morte altro numero molto molto interessante ma vi ricordo questa è una cosa un po' meno conosciuta che in tempi recenti è stato fatto sul Dilan Dog Old Boy numero 6 il mondo capovolto dove appunto ci mostrano il nostro Dilan Dog finire dall'altra parte dello specchio e trovare appunto molti dei personaggi storici capovolti nel carattere nella personalità è stato diciamo una cosa molto interessante da vedere un mondo interessante alternativo che Barbara Baraldi ci ha detto potremmo vedere anche nei numeri bis prossimi numeri bis potrebbero appunto coinvolgere dei what if di Laniati e io non vedo davvero l'ora anche il mondo capovolto che trovate in questo Old Boy è disegnato da Nicola Mari che è uno dei disegnatori di questo numero uno di tre disegnatori ma adesso ci arriviamo stiamo tranquilli un'altra cosa che mi ha ricordato inevitabilmente questo numero è l'ambientazione claustrofobica di una casa da cui non si può uscire e quale numero per eccellenza che mi fa venire in mente se non sette anime dannate che a sua volta si rifà a dieci piccoli indiani di Agatha Christie anche qua ci sono delle persone chiuse in una casa che non gli lascia uscire in questo caso Barbara Baraldi è stata molto abile nel trattare un tema moderno e mescolarlo con il classico e mescolarlo con l'horror un tema moderno ma attenzione non è un tema che non è mai stato trattato prima da classici della cinematografia per esempio l'idea della casa senziente che non ti lascia uscire è già stata trattata da 2001 di Sia nello spazio quindi anche quella è un classico della narrazione qui Barbara Baraldi usa lo spauracchio dell'intelligenza artificiale e la mescola con il sovrannaturale con le impronte elettromagnetiche chiamiamole così che lasciano le morti improvvise nelle case quindi gli spetteri i poltergeist che dirsi voglia che potrebbero essere lasciati da delle morti molto sofferte all'interno di una casa vengono appunto sognate interpretate dall'intelligenza artificiale presente in questa casa una idea molto 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 interessante come ho detto all'inizio Nicola Mari è solo uno dei tre disegnatori presenti in questa storia gli altri disegnatori sono Davide Furnò e Marco Nizzoli o Nizzoli scusate non so dove cade l'accento scrivetemelo sempre qua sotto nei commenti questa è davvero un esperimento interessante per Dylan Dog non l'ho mai visto fare sulla serie regolare se non nel ciclo 666 dove diciamo l'epilogo del numero aveva i disegni del disegnatore del numero successivo però in questo modo cioè che agevola la narrazione della che agevola la narrazione della storia non l'avevo mai visto fare è molto interessante ha due vantaggi secondo me uno appunto è quello che ho detto ovvero che aiuta guida meglio i lettori nella narrazione perché ogni stile di disegno rappresenta una realtà se così vogliamo dirla e quindi ci fa capire perfettamente dove ci troviamo in base a chi sta disegnando quella scena e l'altro vantaggio è che in questo modo la Barbara Baraldi curatrice ma anche scrittrice può appunto usare dei temi molto moderni come quello dell'intelligenza artificiale e commissionarli non a un disegnatore che magari ci metterebbe un anno a disegnare una storia ma lo può commissionare a tre disegnatori che magari ci possono mettere quattro mesi a disegnare una storia in questo modo gli argomenti trattati possono essere anche più impattanti più freschi più recenti non saprebbero di stantito di vecchio come è successo in altre occasioni dove si porta un argomento su Dylan Dog che è già vecchio di un anno o di due anni ma vediamo se ho imparato bene a capire chi è il disegnatore di quale parte Dylan Dog 446 l'altro lato dello specchio si apre con una fantastica splash page di Davide Furnò che abbiamo già visto di recente negli indifferenti che se mi seguite su Instagram avete notato quanto ho apprezzato i suoi volti i suoi primi piani il suo gioco di luci ed ombre gli indifferenti è di Porretto e Mericone e che abbiamo visto insieme a Barbara Baraldi anche in Jenny che è il numero 420 un altro numero fantastico che ha vinto anche un paio di premi se non se non vado errato Nicola Furnò ci porta con appunto le sue ombre con i suoi disegni quasi che sono quasi dei ritratti con i suoi disegni di mani che mi hanno ricordato la perfezione di 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 Libermeio ci porta in una storia horror dove anche le scene d'azione sono narrate da Dio si capisce perfettamente quello che sta succedendo lasciando perdere anche la scelta stilistica di questa splash page che poteva benissimo essere con lo sfondo bianco lo sfondo nero ma ha voluto mettere appunto la scala la tromba delle scale vista dal basso le scale che sta facendo Dylan ma anche nella scena quando Dylan Dog è inseguito da questi mostriciattoli bambini si capisce perfettamente che sono dietro di lui ma che a un certo punto lo superano perché sono più veloci di lui e si trova davanti so che con altri disegnatori questa chiarezza questa trasparenza non sarebbe stata altrettanta quindi sono davvero entusiasta di aver visto di aver compreso benissimo la fluidità dell'azione per poi passare appunto con un'altra ambientazione un'altra scena e questa cosa mi ha ricordato tantissimo Parnassus quel film dove appunto Heath Ledger aveva iniziato a girare ma purtroppo è passato a miglior vita durante le riprese del film ed è stato sostituito da altri tre attori se non sbaglio Colin Farrell non mi ricordo un altro paio di attori e ogni ambientazione ogni volta che lui andava attraverso lo specchio cambiava volto ecco qui Dylan ogni volta che va attraverso lo specchio ogni volta che passa un piano di realtà che passa da un sogno alla realtà o altre realtà cambia disegnatore una fantastica idea un fantastico modo di parlarci in questa narrazione che è sia grafica che appunto narrativa per poi finire appunto con Marco Nizzoli quando Dylan Dog viene spinto in uno specchio lo attraversa e si ritrova in un'altra realtà si ritrova nel passato della coprotagonista di questa storia che è Mary Ann anche qua vediamo appunto uno Dylan diverso ricordo questo stile se non sbaglio nell'old boy ma mi sembra migliorato tantissimo sia nei volti di tre quarti sia nel gioco di luci e ombre anche questa scena è chiarissima e dato che è un altro disegnatore a farla mi viene da pensare che sia appunto la Baraldi che abbia spiegato perfettamente quello che il lettore deve capire ovvero che andando da una stanza all'altra Dylan si ritrova sempre nella stessa stanza la pagina 74 Dylan non attraverso uno specchio ma si risveglia semplicemente e tornano i disegni di Nicola Mari ma non è assolutamente un caso che ci sia il disegnatore che c'era prima siamo semplicemente tornati nella realtà precedente ed è per questo che dico che il disegnatore ci aiuta perfettamente a capire dove siamo nella storia se ci fosse stato un unico disegnatore non sarebbe stato altrettanto chiaro quindi che dire ragazzi non vedo l'ora di vedere di nuovo i personaggi classici di Dylan Dog tornare a ricoprire un ruolo importante nelle nuove storie di Dylan Dog questo è un Dylan Dog classico nel senso che appunto prende a piene mani da ciò che lo ha reso grande e ci ripropone le cose che lo hanno reso grande in salsa moderna sia dal punto di vista dell'argomento della narrazione ma anche dal punto di vista dei disegni e della sperimentazione grafica quindi questo numero è il punto ideale specie se si continua in questo modo perché non è detto per iniziare a leggere Dylan Dog io ve lo consiglio con tutto il cuore fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero qui sotto se siete rimasti entusiasti se ne siete rimasti colpiti se c'è qualcosa che non vi sconfiffera io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo numero grafica 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 grafica